Arena contesa fra AVL e Tecnocasa interviene il sindaco Ricci. Torri all'ex consorzio si cerca scappatoia dall'abuso inizio. Agrario Cecchi ecco l'aula Rotary 4.0. Con With Nature il San Bartolo indaga i cambiamenti climatici. Gabice balla sulle note dell'ottavo festival disco diva. Buona serata, ben ritrovati al nostro telegiornale. Oggi è giovedì 12 maggio e apriamo questa edizione occupandoci del caso della settimana, quello della Vitri Frigo Arena contesa fra la convention di Tecnocasa concomitante a gara 3 dei playoff della VL in calendario proprio il 19 maggio. Nel tardo pomeriggio di oggi il sindaco Matteo Ricci ha convocato una conferenza stampa per chiarire gli sviluppi di questa situazione. Allora ascoltiamo l'intervento del sindaco Ricci a margine della conferenza che si è da poco conclusa. Mi sono dovuto esporre in prima persona perché chi gestisce il Palace ha fatto un gran pasticcio e invece di risolvere ha complicato le cose in questi giorni. Quindi ho dovuto prendere in mano la questione. Ovviamente ho chiesto al presidente dell'Aspes di cambiare immediatamente la direzione del Palace Sport perché non è possibile che non succeda nulla dopo questo pasticcio che è stato creato. Grazie a un contatto diretto che ho avuto questa mattina con la responsabile di Tecnocasa, la dottoressa Beretta, abbiamo trovato un accordo per cui la società di Tecnocasa comprimerà i lavori durante la notte e quindi noi giovedì giocheremo la gara 3 a Pesaro e durante la notte inizieranno i lavori per l'organizzazione della convention che si svolgerà sabato. Quindi come avevamo detto gara 3 sarà a Pesaro quindi i pesaresi potranno finalmente vedere nella città una gara dei playoff dopo 10 anni e non si perde la convention di Tecnocasa e quindi si avvicinano contenziosi e anche un impatto negativo sul turismo. Quindi siamo molto contenti per questo accordo. Rimane un'incognita su gara 4 perché l'eventuale gara 4 si dovrebbe giocare sabato. Ho chiesto ufficialmente a Bologna di spostare la partita domenica. Se Bologna ci darà l'ok riusciremo a giocare domenica sera l'eventuale quarta partita. Altrimenti la quarta partita c'è la probabilità che si debba giocare fuori. Quindi speriamo che Bologna venga incontro alle nostre esigenze e dal resto la Virtus in queste ore ha collaborato moltissimo fino anche a metterci a disposizione quasi gratuitamente il Palace Sport di Bologna per ospitare la convention della Tecnocasa. Purtroppo la Tecnocasa questa mediazione non l'ha accettata e quindi abbiamo trovato quest'altra soluzione. Bene, avanti, però come capite sono anche molto infastidito perché una vicenda normale che capita nella gestione di un Palace Sport è stata gestita davvero con i piedi e il fatto che sia dovuto intervenire il sindaco chiamando direttamente la responsabile dell'azienda è molto anomalo, però almeno abbiamo risolto la questione all'80%. Se ci dovesse essere gara 4 incrociamo le dita perché vorrebbe dire che siamo sul 2-1 dopo le prime tre partite e se Bologna ci verrà incontro la giocheremo a Pesaro anche quella altrimenti saremo costretti a trovare un palazzetto vicino e ho già mandato l'AVL di prenotare il palazzetto vicino che eventualmente ci dovesse servire e lo sceglierà l'AVL quindi certo sta a loro scegliere. Speriamo che non ci sia bisogno, io confido che Bologna accoglierà il nostro appello, significherebbe giocare due partite, la quarta e la quinta nel giro di 24 ore, però come la giocano loro nel giro di 24 ore la giochiamo noi quindi se sono stanchi loro siamo stanchi noi, è un problema secondo me facilmente gestibile però la Lega mi ha detto che è d'accordo se le due società sono d'accordo quindi se Bologna ci darà l'ok sarà possibile farlo, confido in questo anche perché fino ad oggi davvero la Virtus è stata splendida nei rapporti con Pesaro e anche con il sindaco della città. Altro caso ingarbugliato del comune di Pesaro è quello che riguarda l'ex consorzio agrario al porto di Pesaro, un rudere fattiscente che fu demolito a fine 2020 ma da oltre un anno sono stati bloccati i lavori per la ricostruzione, anzi per la costruzione di due nuove torri da 80 appartamenti a causa di un'inchiesta della Procura della Repubblica che si è conclusa in questi giorni. Si sono chiusi con tre ipotesi di reato di abuso edilizio i 14 mesi di inchiesta aperti dalla Procura della Repubblica di Pesaro in merito alla legittimità alla costruzione delle due torri da 80 appartamenti la cui realizzazione era prevista sul terreno in area portuale nel quale sorgeva l'ex consorzio agrario, ovvero il rudere in degrado demolito a fine 2020. Un abuso edilizio ipotizzato per due tecnici progettisti e per il legale rappresentante sul territorio del fondo israeliano che è investitore di maggioranza nel gruppo edilizio deputato a costruire su questa area portuale. Proprio la specificità di quell'area bloccò tutto a febbraio 2021, quando si aprì l'incidente probatorio su sollecitazione della rinnovata direzione della Capitaneria di Porto, una inchiesta che intendeva far luce sulla legittimità dei permessi a costruire in quell'area un complesso edilizio non destinato a fini strettamente portuali. Permessi che furono rilasciati dalle comune di Pesaro nel 2018, motivo per cui gli stessi accusati non si capacitano degli sviluppi della Procura. Una vicenda quanto mai ingarbugliata, passata in un'amen dalle prospettive di rigenerazione urbana al rischio di abuso edilizio e soprattutto al pasticcio di 80 appartamenti sui quali pendevano impegni d'acquisto e sui quali si è aggiunto oltre un anno di ritardo sul cronoprogramma di costruzione. Costruzione che ora si cerca di salvaguardare studiando mediazioni e scappatoie. La problematica finirà anche sul tavolo della nuova autorità portuale e non è da escludere un compromesso quale la rotazione con arretramento delle edificazioni sconfinando fuori dall'area di competenza portuale. Lavori che invece procedono e vanno avanti anche se meno rapidamente del previsto sono quelli su Via Fratti, una strada che sarà ancora interdetta al traffico almeno fino al 20 maggio. Lo ha stabilito un'ordinanza comunale che ha recepito lo stato d'avanzamento dei lavori di Marche Multiservizi per quel che riguarda scavi e bonifica delle reti di gas, acqua e illuminazione. Dunque ci sarà almeno un'altra settimana di percorso ad ostacoli per la circolazione stradale che vede consentito solo l'accesso su Via Fratti venendo da Via Trometta, mentre restano interrotti i collegamenti con Via Belgioioso e Via Giolitti. L'ambito territoriale e sociale 1 di Pesaro si è aggiudicato oltre 3 milioni di euro di contributi PNRR, inclusione e coesione per tutti e cinque i progetti presentati ideati per favorire attività di inclusione sociale per soggetti fragili e vulnerabili come famiglie bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora. Un gratificante risultato da record per l'ambito presieduto dall'assessore Luca Pandolfi e dal coordinatore Roberto Drago. E continuano ad arrivarci delle segnalazioni dai nostri telespettatori, in modo particolare dai residenti del quartiere di Borgo Santa Maria. Dopo i casi di aree verdi comunali soffocate dall'erba incolta, che vi abbiamo mostrato anche nei giorni scorsi, l'immagine che vi mostriamo ora riguarda la fermata degli autobus che si trova proprio vicina al locale Circolo Arci, che come potete vedere è stata brutalmente vandalizzata. Vi ricordiamo quindi il nostro numero di WhatsApp per tutte le vostre segnalazioni, 370-366-7210, per continuare a denunciare situazioni di degrado come quella che avete appena visto. E come sempre noi gireremo questo servizio a chi di dovere per cercare di risolvere questa situazione. Adesso cambiamo completamente argomento perché è sempre più all'avanguardia l'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro che grazie al sostegno di Rotary Club Pesaro ha inaugurato l'aula multimediale 4.0 che è stata intitolata al compianto avvocato Camillo Piazza Spessa, principale promotore di questa innovazione scolastica. Ci troviamo a Villa Caprile, sede dell'Istituto Agrario Cecchi, perché verrà inaugurata una nuova aula, un'aula multimediale 4.0 donata da Rotary Club Pesaro. Prima di tutto va a ringraziamento al promotore di questa iniziativa, l'avvocato Camillo Piazza Spessa che purtroppo non è più con noi ma che lo ricordiamo con tanto affetto e ha creduto in questo progetto. Si è fatto promotore e abbiamo realizzato un'aula 4.0 per una didattica innovativa, quindi un approccio all'insegnamento e apprendimento diverso, molto più vicino a quelle che sono le esigenze degli studenti di oggi. Ovviamente l'aula non è più aula in sé per sé ma diventa un vero ambiente di apprendimento, diventa un sistema formativo integrato, permette agli studenti di poter gestire al meglio i contenuti digitali e inoltre devo dire che la didattica innovativa, le nuove tecnologie e quindi questa alfabetizzazione informatica digitale ha dato un grandissimo aiuto alla scuola e l'abbiamo visto con l'emergenza pandemica. Il progetto nasce da un'idea e dalla lungimiranza del nostro socio Camillo Piazza Spessa è investire nei giovani, trovare i loro talenti, sviluppare i loro talenti e fare in modo che le nuove generazioni abbiano delle possibilità per realizzare quello che vogliono e credo che sia molto importante sottolineare, questa è una mia opinione personale, che laddove c'è cultura c'è libertà e questo è molto importante secondo me. Le aule purtroppo che abbiamo nei nostri istituti, non questo in particolare che è uno dei più belli, se non altro per la location, sono piuttosto vecchiotte, non sono cambiate molto negli ultimi 20-30 anni in molti casi, a volte ci sono degli esempi nuovissimi, ma la maggior parte sono proprio strutture vecchie e non sono solo vecchie dal punto di vista funzionale, anche come immagine, cioè uno che va a scuola c'è sempre un po' quella piccola tristezza di andare in questo locale un po' antipatico. Vogliamo che succeda al contrario, vogliamo che questa aule, queste tipologie di aule rappresenti non solo il futuro dal punto di vista informatico, cioè della connessione con il mondo, e credo che ne avrete già parlato, ma che rappresenti anche un posto dove si va volentieri, dove c'è un ambiente piacevole, dove un ragazzo dice sto meglio qui che in un club o che ne so, o in un posto o in un bar, o a casa mia addirittura, vado più volentieri a scuola che altrove. Ecco, questo è un obiettivo a cui miriamo, quindi ci deve essere un design molto moderno, che però fa i conti con il luogo in cui ci troviamo. Questa è una villa del Seicento, ci sono delle fresche strepitosi, e allora abbiamo pensato di fare una cosa, e questo io sono molto contento insomma di averlo fatto, che riprende dei pezzi di questa architettura e di questi decori storici seicenteschi che rientrano in forma moderna nella nuova aula. Il servizio che avete appena visto è una piccola sintesi dell'approfondimento televisivo che andrà in onda proprio su Rossini TV, Canale 80, questo sabato, quindi sabato 14 maggio, alle 21.20. E cambiamo di nuovo argomento perché il 21 e 22 maggio a Fiorenzuola di Focara, nel cuore del parco San Bartolo, arriva We Nature, prima edizione di un evento che celebra la bellezza della natura, invitando a riflettere sugli attuali scenari climatici. Vediamo quindi il servizio di Edoardo Orazzi. We Nature, natura, esperienza e conversazioni. Si chiama così la prima edizione dell'evento che celebra la bellezza della natura e che invita i cittadini a riflettere sugli attuali cambiamenti climatici. Un simposio di due giorni immerso nel cuore verde del parco naturale Monte San Bartolo, dove tante iniziative, laboratori e importanti ospiti si ritroveranno il 21 e il 22 maggio a Fiorenzuola di Focara. Questa bella iniziativa che per noi non fa altro che renderci orgogliosi. Il parco del San Bartolo è una piccola chicca sul territorio, molto piccola certamente, ma con delle caratteristiche peculiari, sia ambientali che dal punto di vista geomorfologico, talmente importanti. Si tratta di conferenze molto importanti anche sui cambiamenti climatici e quindi un argomento che credo che sia di attualità. Soprattutto in momenti come questi, dove chiaramente noi stiamo affrontando un periodo di grande siccità, perché ricordiamoci che sono anni che non piove in modo adeguato su questo territorio, il San Bartolo ne risente sotto ogni punto di vista, anche sulla sicurezza, perché chiaramente se non piove il San Bartolo, soprattutto nei mesi estivi, e voi ricordate l'incendio del 2017, è a rischio proprio come territorio. Noi in quest'ottica della tutela ambientale, come parco, e siamo credo di primo parco regionale che ha fatto questo. Abbiamo cercato di incentivare la tutela con l'inserimento di telecamere termiche e questo creerà quantomeno un piccolo passo per mettere in sicurezza il nostro territorio. È un'occasione per riflettere sulla natura, ci sarà anche Luca Mercalli e tanti altri esperti ragionare sui cambiamenti climatici, ragionare sulla valorizzazione del territorio e dell'ambiente, partire dalla perla di Firenzola di Focara e anche dalla cultura con presentazioni di libri, incontri, ribattiti e anche tanta musica e anche la possibilità di conoscere sempre meglio e sempre più a fondo in maniera sostenibile la bellezza del parco San Bartolo, un'iniziativa a cui teniamo particolarmente e che speriamo possa anche crescere nel tempo e che ci piace e possiamo poter portare avanti, tra l'altro anche in collaborazione con la Regione Marche. La Regione Marche, come tutti i parchi, per noi il parco del San Bartolo, il Fiorenzola di Focara in modo particolare è un luogo tra quelli più straordinari che abbiamo nel nostro patrimonio e rappresenta un'attrazione vera, sia di compromesso tra l'ambiente bellissimo, la capacità di farlo conoscere, anche con delle imprese di valore come quelle che stanno organizzando questo evento, ma farlo diventare un luogo glamour e anche attrattivo saranno i prodotti enogastronomici, soprattutto il vino, dove si produce lì delle specificità speciali, in modo particolare a Focara colpino nero. Quindi sono luoghi dove c'è grande attenzione dal punto di vista agricolo e anche enogastronomico. Ed ora parliamo degli appuntamenti del weekend a Pesaro, a cominciare dal Grand Tour Musei, al quale aderisce proprio la città da sabato 14 a mercoledì 18 maggio, coinvolgendo i musei civici, il Museo Nazionale Rossini, il Museo della Marineria Washington Patrignani e il Museo Officine Benelli, quattro luoghi della cultura cittadina che per l'occasione saranno caratterizzati da aperture serali, inaugurazioni di mostre e tanti laboratori dedicati ai più piccoli. Sabato 14 maggio, al Centro Arti Visive Pescheria dalle 10 alle 13.30, si svolgerà il convegno Parco Urbano Scultura di Pesaro, terzo e conclusivo appuntamento di un ciclo di incontri in cui saranno ripercorsi gli ultimi anni scultorei che qualificano il grande parco presente nella città. L'occasione sarà quella di presentare nuove proposte di valorizzazione del patrimonio scultoreo cittadino in linea alla promozione Pesaro, Capitale della Cultura 2024. E sempre sabato 14 maggio, continua al Teatro Sperimentale la rassegna musicale Playlist Pesaro, organizzata da Amat e Biper Banca. Ad andare in scena sarà alle ore 21 il Tutto Giusto Tour di Giancane, al secolo Gianluca Barbati, cantautore romano, reso celebre dalla colonna sonora della serie d'animazione Netflix, strappare lungo i bordi, scritta e diretta da zero calcare. E dopo due anni di festival in versione limited edition a Gabicce Mare, si torna a ballare sulle note di Disco Diva, presentato il ricco programma di artisti ed eventi che confezioneranno l'appuntamento per i giorni 24, 25 e 26 giugno. Vediamo il servizio. Gabicce Monte, come tutti gli anni, cambierà completamente veste. Quest'anno più che mai il festival è giunto all'ottava edizione, prenderà veramente un colore incredibile e avremo degli artisti che il nostro festival può tranquillamente equipararsi a dei festival europei internazionali. Vi racconto molto brevemente quelle che saranno le chicche dal 24 al 26 di giugno. Partiamo venerdì e ovviamente abbiamo un DJ set di Napoli segreta, quindi come l'anno scorso apriamo il nostro festival anche a un pubblico più giovane. A seguire avremo il live di Pino D'Angiò, tutti lo ricorderete che è con un suo brano cult degli anni 70, per poi finire la serata veramente con un ospite prestigiosissimo. Pensate che lui fa solo le più grandi piazze europee del mondo e parliamo di Cerrone. Il sabato partiremo con un altro DJ set molto importante, curato ovviamente da Italian New Wave, che è il nostro partner dell'anno scorso, oltre ovviamente che Gucci San Pellegrino, che è l'antre di quest'anno, e Riviera Banca, per poi arrivare al grande live strepitoso degli Imagination, quindi tantissimi successi legati agli inizi degli anni 80, Just an Illusion e tanti altri, che vedremo qui ripercorrere proprio nel palco di Piazza Valbruna. E poi alla fine vedremo un grande DJ set, che ovviamente lo aspettiamo da anni, e parliamo di Nicky Siano, il DJ dello Studio 54 di New York. Arriviamo la domenica, che non sarà da meno quest'anno, perché comunque partiamo con un discorso di un lungo aperitivo, perché la domenica ovviamente le persone vogliono più di questo, di venire su dalla spiaggia, di stare molto easy, eccetera, per poi arrivare, partiremo con un momento culturale dove racconteremo la storia della disco music attraverso la moda, i DJ che hanno fatto la storia del territorio, passeremo dalla Beia degli Angeli allo Studio 54, quindi sarà veramente una cosa molto carina. Poi partiranno i DJ set con Gino Grasso, ovviamente lui assolutamente tutto in vinile, dopodiché avremo il live di DC La Rue, è un altro ospite internazionale che viene da New York, ed infine una cosa inedita, avremo un DJ set di Ralph, con una selezione dedicata alla disco music, lo avremo proprio qui in Piazza Valbruna, quindi ci aspettiamo veramente un fiume di giovani e poi avremo un DJ che non posso annunciare, che è un TBA, ma vi assicuro veramente che è un ospite internazionale. Dopo due anni di edizioni con dei limiti, l'avevamo battezzata disco diva Limited Edition, perché avevamo delle limitazioni importanti dovute alle restrizioni da Covid, quest'anno ci sono tutti i presupposti per ricominciare a divertirci, quindi saranno tre serate all'insegna del grande spettacolo, grandi artisti, grandi ospiti, 24, 25 e 26 di giugno, naturalmente vi aspettiamo numerosi, perché vogliamo riempire questa piazza, ridare un po' di felicità, di serenità, dal punto di vista della musica, delle note musicali che scalderanno le serate. Con Disco Diva abbiamo creato questo evento che mancava al nostro territorio e che oggi può identificare il territorio di Gabizia e Mare, tantissimi identificano il territorio di Gabizia e Mare all'evento Disco Diva, quindi comunque siamo riusciti a farlo amare a tutti i gabicesi, perché è l'evento più atteso dell'anno, e amare anche tantissimi turisti, che per l'occasione arriveranno a Gabizia, hanno già prenotato da tempo le strutture alberghiere, quindi veramente un evento musicale di grande spessore che porterà tantissime persone a vivere, a divertirsi, a ballare insieme a noi la disco music, la musica degli anni 70, che ha caratterizzato la storia del nostro territorio. Per i biglietti, quest'anno abbiamo previsto un biglietto d'ingresso di 10 euro, di cui una parte verrà devoluta alla Croce Rossa di Pesera per un progetto molto importante, quindi noi Disco Diva siamo sempre molto volti anche al sociale. Questo biglietto si può acquistare già da subito sul sito DICE e sarà veramente un prezzo irrisorio, perché parliamo di 10 euro con una parte devoluta in beneficenza. Quindi vi aspettiamo qui a Disco Diva. Ciao! E chiaramente anche noi con le nostre telecamere seguiremo l'evento Disco Diva. Intanto seguiteci voi questa sera, perché questa sera le 21 eventi in prima serata c'è la presentazione del film Vecchie Canaglie al Multiplex Giometti di Pesaro, presentazione che è avvenuta proprio lunedì scorso e con tante interviste ai protagonisti e ai personaggi di questo film che ha anche dei riferimenti nel locale, scoprirete perché. E poi vi ricordiamo che domani è venerdì torna la nostra rassegna stampa in studio e in diretta alle 7.20, ci sarà Daniele Sacchi. Continuiamo con gli appuntamenti di domani, domani arriva la prima puntata di Vox Pop, questo programma che parte appunto questo venerdì, lo trovate tutti i venerdì dalle ore 19, scusate, e queste sono tutte le repliche in cui vedere questo approfondimento. La puntata di questa settimana si concentra su Pesaro, capitale della cultura, come vivono questo importante traguardo i cittadini pesaresi. E sempre domani, ma alle 20, torna Vallefoglie Pian del Bruscolo Magazine con il nostro Edoardo Orazzi che ci informerà su tantissime notizie di questo territorio. Abbiamo davvero detto tutto, adesso io vi lascio con il meteo per vedere come sarà il clima in questi prossimi giorni, giorni davvero molto caldi. Vi auguro un buon proseguimento di serata.